Buonasera a tutti e benvenuti all'incontro di oggi pomeriggio. L'incontro di oggi pomeriggio fa parte di un ciclo di webinar che Mondador Education dedica alle nuove metodologie didattiche con un'attenzione particolare alle risorse digitali. Tra poco la professoressa Maria Monteleone ci illustrerà, ci presenterà, ci racconterà una serie di proposte didattiche per riuscire ad appassionare e a coinvolgere i ragazzi nello studio e nella comprensione di uno dei testi fondamentali del nostro novecento, l'allegria di Giuseppe Ungaretti. Tutte le proposte che la professoressa Monteleone ci illustrerà nel corso della sua presentazione sono proposte, spunti operativi pratici, molto pratici e tutti sperimentati con successo in classe. Durante la sua presentazione la professoressa userà come testo base di riferimento il volume di letteratura italiana per il triennio di Roncoroni Cappellini Sada, noi c'eravamo e farà riferimento non solo al cartaceo ovviamente ma anche alle risorse digit abbinate a questo manuale. Prima di passare la parola alla dottoressa Monteleone, vi ricordo che le slide con cui la professoressa farà il suo, svolgerà il suo incontro, saranno tra pochi giorni a disposizione dei partecipanti, insieme anche a un pdf del capitolo completo dedicato a Ungaretti, estratto dal terzo volume di noi c'eravamo. Un'ultima informazione, per fare domande alla professoressa vedete nella chat c'è un link dedicato, potrete quindi usare quel link per fare le domande che vi verranno nel corso dell'incontro oppure potrete usare anche il QR che vedete nello schermo. Mi sembra di aver detto tutto, quindi io lascio senz'altro la parola la professoressa Maria Monteleone e vi auguro buona visione e buon ascolto. Ci rivediamo più tardi al termine della presentazione quando ci lasceremo qualche minuto in modo tale che la professoressa possa rispondere alle vostre domande. Grazie ancora e di nuovo buon ascolto. Buonasera a tutti, sono già in condivisione, giusto? Si vedono anche, si vede? Ok, perfetto. Adesso sì. Perfetto. Allora, quello che vi presento oggi è un percorso sull'insegnamento dell'allegria di Ungaretti, un percorso che cerca di obbedire diciamo il più possibile ai principi della didattica laboratoriale attiva, quindi incentrata sull'apprendimento attivo attraverso metodi di euristico cooperativi, diciamo, quindi di esplorazione dei testi e dei contenuti da parte degli studenti, il che implica ovviamente una diversificazione quanto più ampia possibile anche delle fonti, per cui un percorso sarà che sfrutterà il più possibile le risorse e cartacee digitali che questo volume ci mette a disposizione. Allora, ok, i volumi sono questi. Allora, questo percorso sull'allegria l'ho strutturato nelle tre fasi ormai classiche, se vogliamo, della didattica, quindi nella fase di avvio che è quella che introduce l'argomento, fa entrare i ragazzi diciamo nella prospettiva di quello che dovranno apprendere, nella fase centrale che è quella dell'apprendimento dei nuovi contenuti e delle nuove appunto conoscenze, l'acquisizione delle nuove conoscenze, è una fase conclusiva che è quella in cui l'apprendimento precipita appunto nella produzione attiva da parte dei ragazzi. Cominciamo dunque con la fase di avvio. Nella fase di avvio chiaramente la prima parte sarà inevitabilmente la presentazione dei contenuti e degli obiettivi del percorso, cioè i ragazzi devono sapere nelle ore previste diciamo per il percorso che cosa si andrà a fare, quali saranno i contenuti, quindi la raccolta allegria e anche che cosa si farà, cioè si comprenderà la poetica di Ungaretti, si analizzeranno i testi che dovranno anche sapere che alla fine si dovrà produrre un testo attraverso la poesia, cioè con la poesia di Ungaretti. La fase di avvio vera e propria, quella più attiva, comincia con una fase appunto con la fase della motivazione che vedrà un riscaldamento, un warming up che sollecita le preconoscenze, cioè con questo riscaldamento si rinfrescano diciamo le idee su due argomenti che hanno appena affrontato, quindi il futurismo e la prima guerra mondiale. Ai ragazzi magari potrà essere raccomandato di arrivare già alla lezione avendo un ripassino, facendo un ripassino a casa su questa lezione, ma in classe i primi minuti saranno dedicati appunto a delle domande flash in cui saranno coinvolti tutti, si risponde per alzata di mano e il docente appunta i punti chiave che emergono, li fissa alla LIM, nella forma di una mappa concettuale che rimanderà direttamente alle mappe del cartaceo già fornite, che sono tra l'altro delle mappe modificabili. Lo dico qui perché è una cosa che mi preme molto, io trovo al di là della facilità ovviamente della mappa per i ragazzi, io coinvolgo per le mappe moltissimo i ragazzi che hanno come misura compensativa l'uso del computer in classe, quindi sia BEST che DSA a secondo ovviamente della realtà classe che mi trovo davanti, perché loro sono leader in questo caso, cioè affido proprio a loro per conto di tutta la classe di costruirla questa mappa riproducendo quello che facciamo alla lavagna, quello che offre il libro, arricchendolo anche con immagini. Devo dire che per loro è molto motivante e incoraggiante. Quindi poi si passa alla fase che secondo me è ancora più motivazionale, diciamo, che sarebbe il brainstorming, cioè per attivare le conoscenze implicite degli alunni su quanto già loro hanno appreso sull'analisi del testo poetico, io anche per incuriosirli e cominciare a farli entrare dentro l'autore, propongo un brainstorming su due testi, su mattina e soldati, in particolare quelli che ho scelto per questo percorso. Allora, come farò? Io li trascrivo, diciamo, alla lavagna e da lì i punti che emergono dal brainstorming verranno fissati sempre in forma di mappa. Ovviamente preliminarmente io, l'insegnante, insomma, deve fornire delle informazioni essenziali su due testi, quindi dovrà dire che si tratta di due testi emblematici della poesia di Ungaretti e che entrambi fanno parte della prima raccolta dell'autore, che è l'Allegria, che rappresenta un diario poetico dell'esperienza bellica. Scusa, posso interromperti un attimo? Quando tu parli di presentazione dei testi alla classe, cioè... Questi sono dei minuti frontali, diciamo. Presuppone anche una lettura ad alta voce, una lettura collettiva dei testi... Allora, io innanzitutto dico, ragazzi, oggi si comincia facendo un brainstorming, vabbè, allora ovviamente dico svegliando il cervello e collegandoci con due testi che adesso io vi trascrivo alla lavagna, mentre voi fate la lettura collettiva ad alta voce. Il testo che io ho, diciamo, sposato del cartaceo in particolare è questo, la parola all'autore, in cui Giuseppe Ungaretti spiega la nascita e la genesi di Veglia, ma che in realtà è molto generale, cioè può valere in generale per qualunque altra poesia dell'allegria, no? Perché qui Ungaretti dice, leggo le prime righe, ero in presenza della morte, in presenza della natura, di una natura che imparavo a conoscere in modo terribile. Dal momento che arrivo ad essere un uomo che fa la guerra non è l'idea di uccidere o di essere ucciso che mi tormenta. Ero un uomo che non voleva altro per sé se non i rapporti con l'assoluto, l'assoluto che era rappresentato dalla morte. Nella mia poesia non c'è traccia d'odio per il nemico né per nessuno, c'è la presa di coscienza della condizione umana, della fraternità degli uomini nella sofferenza, dell'estrema precarietà della loro condizione. Allora, io ritengo che già queste poche righe, quando i ragazzi lo affrontano in lettura collettiva, mentre io trascrivo i testi alla lavagna, già loro entrano dentro alcune parole chiave, dentro alcuni concetti, nell'atmosfera appunto di questo soldato poeta che scrive e che mentre si trova lì, che può morire, pensa alla condizione di tutti gli uomini. Quindi è un'ottima contestualizzazione a mio parere. Quindi i ragazzi si ritrovano, diciamo, questi due testi sulla lavagna. A quel punto c'è la fase divergente, diciamo, del brainstorming e cioè, il brainstorming, lo sappiamo tutti, è un'intervista di gruppo in cui l'insegnante fa soltanto da facilitatore. Allora, in questo caso io pongo delle domande stimolando le riflessioni degli alunni. Le risposte devono arrivare da loro, quindi io li devo guidare per bene e devo orientare, come dire, la loro attenzione verso i punti salienti della poetica e nel frattempo tenere traccia, ovviamente visibile nella forma di mappa alla lavagna delle idee che emergono. Qui avete una carrellata di domande che sarei pazza a proporvi, diciamo, tutte quante, però ovviamente io chiederei cosa salta all'occhio pensando ad altri poeti che avete studiato, così si già capiscono, è breve. Oppure questa annotazione, Santa Maria la Longa il 26 gennaio 1917, a cosa vi fa pensare? Loro già vengono introdotti a quest'idea che è in un luogo e in un tempo preciso durante la guerra, quindi al racconto dell'esperienza bellica attraverso la poesia. Allora, dopo la fase di questa intervista con questa carrellata di domande, io di solito riepilogo i risultati di questa fase divergente, di questa intervista, ordinando i dati emersi, così come poi i ragazzi li ritroveranno nel paragrafo sulla poetica e nella rispettiva mappa del cartaceo. Questo è molto facilitante per loro, perché in classe li avranno tirati fuori loro prendendo tutto il tempo che era loro necessario e nel momento in cui lo ristudiano in forma discorsiva, ecco, lo hanno già appreso in sostanza. Per tirare le somme di questa fase convergente faccio leggere un'altra parola all'autore. Che cos'è la poesia? Si legge bene, benedetta questo... Allora, chiaramente non lo leggo tutto, in particolare mi soffermo sull'ultimo, vi leggo però le ultime righe. Allora, sino dalle mie prime esperienze fatte nella tragicità della trincea, quando di fronte alla morte non c'era da pensare se non alla verità della vita ho capito bene queste cose, mi sono sforzato nelle mie ricerche e scoperte di poesia a insegnare che ogni poeta ha da svincolare la propria originalità liberamente, ma che ha nello stesso tempo da ricordarsi che ogni poesia per essere tale deve anche possedere quei caratteri di anonimia che le impediranno di apparire estranei ad un essere umano. Ogni vera poesia risolve miracolosamente il contrasto d'essere singolare, unica e anonima, universale. Perché faccio leggere questo? Perché io avrò guidato l'osservazione dei ragazzi, ora vediamo qualche domanda c'era, sul fatto che queste poesie hanno sì un legame con la contingenza, ma hanno anche un valore universale, in particolare soldati. Questo sarà una caratteristica che sarà emersa ovviamente dal brainstorming. A questo punto diciamo, l'odore e il colore di un garetti i ragazzi ce l'hanno, per casa si chiude la fase di avvio e la fase centrale è quella dell'apprendimento, quindi dell'acquisizione delle nuove conoscenze e io l'affido innanzitutto ad una flipped classroom parziale almeno. Cioè ai ragazzi raccomando a casa di studiare la vita e le opere di un garetti dal libro di testo, guardare il video ritratti da Rayplay, queste sono le risorse abbinate proprio al volume, ok? In cui un garetti in questa lunga intervista su Rayplay espone la sua poetica e faccio guardare anche il video che adesso vi farò vedere che è una delle risorse specifiche di questo volume. Allora, vado e però passa qui. Clicca sopra. Ecco, fatto, fatto. Ora vuole magari qualche istante per... Allora, sì, questo video, come dire, prende soltanto due minuti e 45, però condensa bene cose che sono emerse dal brainstorming e diciamo può essere preliminare proprio allo studio perché alla lezione partecipata che sarà il cuore, diciamo, della lezione, i ragazzi arrivano già sanno più o meno di cosa si parla. Mi direte adesso che parte... L'allegria. Sentite bene, sì? Bosco di Couton, luglio 1918. Si sta come d'autunno, sugli alberi, le foglie. La lirica soldati è uno dei testi più celebri contenuti nella raccolta di Giuseppe Ungaretti, l'allegria. L'opera è una sorta di diario di guerra. Per ogni poesia sono indicati il luogo e la data di composizione. Il poeta aveva infatti partecipato come volontario alla prima guerra mondiale, raccontando in versi la propria esperienza nelle trincee del caso. L'allegria costituisce la sua prima raccolta poetica a carattere riassuntivo, nella quale confluiscono le raccolte precedenti Il porto sepolto, 1916, e Allegria di naufragi, 1919. È composta da 74 poesie, divise in cinque sezioni. Ultime, Il porto sepolto, Naufragi, Girobago e Prime. La prima edizione esce nel 1931, seguita da altre due nel 1936 e nel 1942. Ungaretti rimaneggia costantemente i propri componimenti, a livello lessicale, sintattico e metrico. L'unica sezione a rimanere intatta è quella del porto sepolto, che si conferma il nucleo della raccolta. Le liriche dell'allegria risultano innovative rispetto alla tradizione poetica precedente. Si tratta di testi molto brevi, quasi essenziali, basati sul versicolo, ossia un verso brevissimo, costituito anche solo di un'unica parola. Ungaretti spiega questa scelta con l'urgenza imposta dalla guerra. Difficile dilungarsi quando la morte incombe a pochi passi. L'esperienza bellica è violenta e straziante. Il poeta ne denuncia l'orrore e sottolinea l'importanza della fraternità degli uomini nella sofferenza. Rileva anche la necessità della scrittura, che ha la responsabilità di dare un senso all'esistenza umana. Nella poesia di Ungaretti i titoli sono sempre parlanti. È il caso anche del porto sepolto e dell'allegria. Il primo allude a un antico porto sepolto di Alessandria, metafora dei segreti nascosti nell'animo umano che la poesia cerca di sondare. Il secondo fa riferimento all'associazione tra gioia e dolore, all'allegria che scaturisce dall'arrivo in porto dopo un naufragio. Ecco, se posso presentare. Allora Maria diceva giustamente modalità Flipper Classroom, quindi i ragazzi studiano l'allegria sul volume, sul cartaceo. Vi ricordo appunto che sul cartaceo c'è un QR code, sul quale i ragazzi con lo smartphone possono immediatamente… Sì, ora lo faccio vedere perché… Accedere, quindi è immediato. Anche per gli studenti accedere a questa risorsa è istantaneo. Sì, 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 è facilissimo proprio, è immediato. Perché poi noi abbiamo quest'illusione che siccome sono giovani sono nati nel digitale, in realtà per orientarsi nelle risorse digitali bisogna guidarli come se fossero bambini. Però questo è veramente estremamente facile. Allora, in questo video sono condensati tutti gli elementi che sono emersi già dal brainstorming su Mattina e Soldati. I ragazzi ci ritrovano soldati su cui si è fatto il brainstorming e in più trovano quel più uno, diciamo che è già l'allusione al porto sepolto. Ok, a questo punto in classe comincia la lezione partecipata. Una prima parte sarà necessariamente frontale, cioè l'insegnante dovrà presentare la raccolta e spiegare la struttura dell'opera. C'è già nel video, però non sono spiegati i significati delle tre sezioni belliche. Il paragrafo del volume, ecco, questo qui se vedete bene c'è il QR code. Ok, da qui parte il video dell'allegria. Io non faccio aprire il libro in classe, premetto. Quindi per loro poi è una sorpresa trovarsi sul libro la lezione così come l'abbiamo svolta in classe. Diciamo che a questo punto io trascrivo schematicamente alla lavagna i punti principali delle tre sezioni belliche e soprattutto le parole titolo. E gestisco un altro brainstorming un po' più mirato a questo punto, un po' più tecnico su queste tre parole, non ancora su porto sepolto. Quindi altra carrellata di domanda, a cosa rimandano le parole naufragio, girovago, faccio ripensare alla lirica soldati che ha un significato universale e chiedo il significato universale dei termini concetti, ma a questo punto essendo già dentro la poesia io parto anche ovviamente con il riferimento intertestuale a Leopardi e all'infinito col naufragio e quindi affronto anche il tema del ruolo della poesia e della natura che tra l'altro in parte... Ok, quindi laboratorio di analisi del testo, io sottopongo due testi, il porto sepolto e veglia. Il primo, il porto sepolto, si esplora insieme, cioè io faccio leggere, leggiamo insieme la contestualizzazione in cui Ungaretti spiega il significato di porto sepolto, quindi il riferimento anche ad Alessandria, alla poesia che è un modo appunto di immergersi nella propria anima come in un porto sepolto e trarre fuori delle verità profonde. Prima di sottoporre il testo alla lettura glielo faccio ascoltare. L'ascolto è semplicissimo perché loro col QR code riescono ad ascoltarlo immediatamente. Dopodiché guido l'analisi attiva da parte della classe. Io mi appoggio e faccio appoggiare ovviamente anche loro all'analisi del testo, però lo faccio espandere, lo faccio amplificare, lo faccio arricchire anche con le loro riflessioni, chiaramente. Quindi una volta ben scandagliato il tè scandagliato, per l'appunto il porto sepolto, dopo l'esplorazione c'è la fase della sedimentazione di quanto si è pensato sul testo del porto sepolto. Quindi un circle time. Un circle time, ve l'eravate perso poco fa, vero? Mentre parlavo al muro? Sì, perfetto. Allora, il circle time io lo spiego sempre alle classi che non l'hanno mai fatto nei termini di una seduta di terapia di gruppo, diciamo. Come una seduta fra alcolisti anonimi e dico, bene, immaginiamo di essere ad una seduta di terapia di gruppo e riflettiamo. Ognuno dica la sua. Su quali punti? Sulla poesia come strumento di ricerca e rivelazione di verità profonde o di segreti, di verità assolute. E poi loro devono anche parlare della loro ricerca personale delle verità profonde su di sé, sulla vita, sul senso delle cose, perché chiaramente io li devo invitare anche a riflettere su quale canale loro nella loro vita navigano meglio per l'introspezione. Dopodiché l'ultimo punto di questo circle time è una proposta operativa, cioè usiamo la tecnica di Ungaretti, esprimiamo una verità profonda, uno stato d'animo, un sentimento, un'esperienza con una frase essenziale, concentrata, intensa di massimo 5-10 parole, in sostanza esprimere una verità profonda alla Ungaretti. Oramai il versicolo, la parola pura, la metafora, la concentrazione e l'intensità della parola l'avranno ben metabolizzata i ragazzi e così la possono rielaborare con questa tecnica attiva. Il secondo testo che è Veglia, che io propongo molto volentieri perché è un testo che va incontro ai gusti dei ragazzi perché passa da un canale molto visivo, sono immagini che loro in qualche modo hanno già incontrato nelle loro fumetti, film, serie televisive. Allora, Veglia loro l'analizzeranno nella modalità del cooperative learning, che serve di rinforzo, come attività di analisi del testo di rinforzo, cioè vediamo se sappiamo analizzare un testo da soli insieme però, in maniera tale che uno viene fuori un'idea, uno ne viene fuori un'altra. In tempi di pace io normalmente passo fra i banchi, diciamo, dei gruppi, dei piccoli gruppi che lavorano per monitorare, facilitare, coinvolgere chi vedo più in disparte magari e incoraggiare e che adesso però, devo dire, sto facendo anche in DAD. I ragazzi funziona bene anche in DAD, loro staccano i microfoni dal gruppo della classe e fanno la loro chiamata in piccoli gruppi e io entro nelle varie chiamate per vedere come procede. A questo punto siamo nella fase conclusiva che è quella della produzione e quella della produzione io affido dei compiti su Ungaretti in particolare, dei compiti di realtà sempre da svolgere in piccoli gruppi o anche soltanto a coppie. Può essere a partire da una scelta di poesie, quindi dovranno andarsi a spulciare delle altre poesie di Ungaretti, scrivere delle cartoline di guerra, quindi rielaborazione del testo proprio in un altro codice e poi prima che loro scelgano come procedere propongo per l'appunto la bacheca. Durante l'interruzione Benedetta avevi già fatto vedere la bacheca? No, avevo semplicemente fatto vedere il trailer del film Torneranno i prati di Ermanno Olmi. Ok, allora questa bacheca immagini di guerra, io sono innamorata di questa bacheca perché aspettate che la condivido, dunque perché è veramente un pozzo di fonti e di ispirazioni per i ragazzi che amano veramente navigarci. Ho fatto la prova anche se ancora non è coattiva, però l'ho sottoposto. Ecco qua, benissimo. Allora, lo ingrandisco un po', così lo, ops, forse troppo. Allora, questa bacheca funziona così, ovviamente prima di cominciare, per cominciare si scorre, ora c'è l'addio alle armi di Hemingway, quindi la parte diciamo prodotti intertestuali, per riferimenti intertestuali, Jacques Tardy, ogni singola voce è selezionabile. Uno dei compiti di realtà, per esempio, che io ho pensato è un dialogo immaginario fra il soldato Ungaretti, per il quale la poesia è un rifugio e tutto quello che è venuto fuori durante la lezione partecipata, è questo personaggio di Un anno sull'altipiano. Leggiamo un attimo questo passo. Si vede bene? Si, Benedetta? In cui questo personaggio dice, sì, ok, in cui un personaggio che sostiene che in guerra servono soltanto i generi di prima necessità, ok? Vivere, bere, cognac, dice alla fine, dormire, vivere e cognac, stare all'ombra e vivere e non pensare a niente, perché se dovessimo pensare a qualcosa dovremmo ucciderci l'un l'altro e finirlo una volta per sempre. E tu leggi? Cioè, un soldato, cosa che leggere, quindi la vita dello spirito, come dice prima, sia una cosa penosa, assolutamente inutile, ok? E il soldato Ungaretti che invece nella poesia e nella vita dello spirito trova una salvezza e una lettura della condizione umana, ok? Quindi questo potrebbe essere un compito di realtà, immaginare e mettere per iscritto un dialogo fra questi due soldati. Il soldato Ungaretti è quello di Lussu. Oppure ancora, il materiale, tanto veramente, qui c'è un'avventura grafica sulla prima guerra mondiale che è questo che ovviamente esplora poi va nei comics e quindi anche un codice, un genere che ai ragazzi è molto molto familiare. Ecco, su tutto questo materiale, mi ricondivido, si possono inventare i ragazzi dei compiti di realtà molto molto buoni. Torniamo all'ultima slide. Ecco qua, appunto, un altro può essere un manifesto, soprattutto per la parte altra immagini di guerra, no? Della bacheca, quelle forniscono tanto materiale per questo compito di realtà che è anche incontra l'educazione civica proprio a pieno, no? Un manifesto di fratellanza, uno slogan per una campagna di pace, un'iniziativa di solidarietà per i profughi di guerra. Insomma, veramente questa l'ho trovata una risorsa assolutamente unica, non ne avevo vista di così ricca. Bene, io la mia lezione, ecco, finisce, finisce qui e per fortuna siamo riusciti a portarla alla fine. Ci siamo riusciti in un modo, in un altro, in un modo molto accidentato, ecco. Io non ho parlato, allora voglio dire che io non ho parlato di verifica in nessuna lingua, nel senso che chiaramente i ragazzi con un percorso così attivo arrivano in fondo e sono già valutati, per cui la stesura di un compito di realtà o se vogliono mettere anche per iscritto la loro analisi del testo, di un testo che hanno scelto come materiale per il compito di realtà, a me già basta per la valutazione, cioè a quel punto lo so che loro sono in grado, anche dal punto di vista della verifica di solito mi muovo in questo modo, perché vedo che già facendo una lezione partecipata le risposte loro le danno. Ecco, io dunque nel ringraziare Maria che insomma è riuscita a superare tutti questi inciampi, arrivare in fondo. Notavo con piacere, inoltre alle tante domande che sono arrivate, anche tanti apprezzamenti per tutte queste modalità proposte da Maria che mettono davvero lo studente al centro e quindi sono davvero delle strategie didattiche molto inclusive che personalizzano il percorso di apprendimento e lo rendono quindi destinato ad essere permanente, no? Quindi dicevamo con Maria, lavorando su questo nostro incontro nei giorni precedenti, come alla fine grazie a questo continuo chiamare in causa la soggettività, l'emotività, stimolare continuamente il ragazzo a arrivare da solo a certe informazioni, a certe conoscenze, alla poetica di Ungaretti, alle caratteristiche della sua poesia. Alla fine il libro di testo, il manuale di testo diventa una sorta di diario personale. Sì, loro ritrovano, loro ritrovano veramente sul testo, loro ritrovano il percorso che si è fatto fisicamente insieme. Io dico fisicamente perché la modalità del circle time, la modalità del cooperative learning, la modalità anche semplicemente del brainstorming implicano per loro una partecipazione anche fisica perché si devono mettere in gioco con la voce, con tutto. Quindi non sono cose che loro, è un lavoro che si fa in classe e che rimane, loro ricorderanno tutto di questo. Io di solito parto già dal secondo anno, diciamo, a fare questo tipo di lavoro perché quando si abitano a fare l'analisi del testo in questo modo, ora un percorso su Ungaretti di questo tipo si può fare anche in un secondo anno, nel secondo quadrimestre. Per dire, ora siamo in un terzo volume di un quinto anno, però anche in quinta, per esempio, in quinta volevo fare una specificazione, non so se c'era già una domanda rispetto al fatto che questo percorso chiaramente occupa un po' di tempo. Ecco, sui tempi, sui tempi, ci sono domande sui tempi, cioè in quanto tempo tu ti immaginavi per poter svolgere tutte queste fasi. Allora, più che immaginarmi, allora ogni classe ha la sua storia e la sua risposta. È vero che ho messo tanto tempo ad illustrare il warming up, il brainstorming e poi alla fine in un'ora, in una lezione di un'ora, se ne viene fuori. Così come l'analisi del portosepolto è l'inizio perlomeno dell'analisi di veglia, a seconda poi di quanto, un circle time, se voglio fare un circle time per bene, allora magari sceglierò a seconda delle risposte una o l'altra delle cose. Magari la tecnica trasformiamoci in Ungaretti e tiriamo fuori una verità profonda in 5-10 parole e gliela posso anche lasciare per casa, ecco, mi adeguo. Però è chiaro che in una quinta in cui si corre per raggiungere almeno quei tre che sono Ungaretti, Montale e Saba, io la parte conclusiva la sospendo, cioè mi fermo all'analisi del testo col cooperative learning e verso, quando si finiscono i tre autori, divido la classe in gruppi, la fase conclusiva se la fanno ognuno con un autore diverso, quindi delle proposte, a quel punto i gruppi si possono scegliere il tipo di compito di realtà che vogliono e che torna anche di rinforzo rispetto alla preparazione anche di un colloquio di maturità, perché richiede fantasia, collegamenti intertestuali, creazione di ipertesti e quindi una fase produttiva che posso tranquillamente rimandare. Quindi stacco e poi la faccio fare e la faccio fare parallelamente su più autori. Però di solito io gli autori in quinta, in ogni anno veramente, li presento sempre, li affronto sempre con questa ripartizione, ecco, del percorso. Ecco, una domanda di tipo un po' più, diciamo, tecnico, che ricorre, una domanda ricorrente, dice dove trovo la bacheca? La bacheca fa parte delle risorse digitali abbinate alla... Allora, sì, tra l'altro, ecco, io non ho legato la foto. Dunque, l'ultimo testo proposto dal volume è un'analisi anche con simulazione di prima prova, eccetera, e c'è un QR code che rimanda direttamente lì. E comunque il docente se lo ritrova nella lezione digitale fra le risorse digit, l'alunno se lo ritrova attivando il libro. Allora, io questa è una cosa che ho imparato, devo dire, l'ho dovuta imparare, i ragazzi non attivano i loro libri. Quando io chiedo se possono fare la prova e la facciamo insieme ad attivare i loro volumi, poi come recitassero un rosario, allora loro poi attivano tutti i loro volumi perché scoprono che dentro i volumi ci sono anche di altre materie, ma io scopro che non l'hanno fatto anche laddove per me è scontato farlo, ecco. Quindi io li devo guidare sicuramente nell'attivazione. Fare vedere che è facile. in classe loro lo fanno direttamente col QR code, tanto ce l'hanno tutti. È il momento in cui io faccio tirar fuori il telefonino e loro si guardano insieme, io suggerisco, poi a caso ovviamente se lo esplorano come vogliono. Ma per la costruzione di percorsi, ripeto, conclusivi anche del quinto anno, questa bacheca, tra l'altro, quello è uno strumento che si modifica, cioè si può arricchire, si può partire da quello e aggiungere materiali come si vuole anche sulla seconda guerra mondiale, eccetera. Quindi è particolarmente versatile e soprattutto perché rimane come un deposito, un tesoro che la classe ha a disposizione di materiali. Va bene, io a questo punto direi che ringrazio Maria, ringrazio tutti voi per la pazienza. Per la pazienza, io mi scuso per l'ennesima volta. Vi saluto e ci rivediamo presto, prossimamente, qui sul nostro canale per altri webinar dedicati alla didattica digitale integrata. Arrivederci a tutti, grazie. Arrivederci. Grazie.